Restate a Leporano, ovvero il cartellone degli eventi estivi. Leporano ormai è protagonista assoluta d'estate e non solo. Ne parliamo con la dottoressa Yolanda Lotta, vice sindaco del comune di Leporano. Un appello a far sì che veramente Leporano diventi il centro della nostra estate. Leporano è, diciamo in questo periodo, la punta di diamante della provincia ionica. Io invito tutti a rimanere qui a Leporano, restate a Leporano, da sabato fino al 10 di settembre. Vi aspettiamo tutte le sere. Tanti eventi per tutti i gusti. Sì, eventi diciamo culturali, ma non solo, enogastronomia, di spettacolo, di aggregazione. Abbiamo delle chicche veramente formidabili. Il 10 abbiamo la manifestazione di musica tra i vicoli, che è un percorso enogastronomico. Vivi il Medioevo, c'è il percorso, il corteo storico, ma anche abbiamo tanta bella musica, jazz, teatro, tutto. Tutto per chi vuole venire a Leporano a trascorrere le proprie vacanze. Una rassegna che non è solo quantità, ma anche e soprattutto qualità. E di qualità, quest'anno abbiamo anche inserito per il bicentenario della morte di Paesiello, due appuntamenti. Giorno sabato abbiamo il Tedeum con il maestro Lippolis. Dopo la serata ci sarà anche una degustazione di vini a cura dell'associazione Proloco, ma anche la grande piantata. Tutto, diciamo, organizzato anche da Vini e Vini di Varvaglione. E allora, diciamolo insieme, restate a Leporano!